Il film è un documentario che racconta le vicende della famiglia del regista ma anche ricostruisce la storia dell'Iran e il passaggio dal regime dello Shah alla rivoluzione islamica. Una donna che è sposa un uomo che vive in Svizzera lo raggiunge, qui però la vita non è facile per lei e quando tornano a Tehran insieme alla figlia che nel frattempo è nata il mondo è cambiato. Il film attraverso materiali d'archivio, interviste, testimonianze, lettere, ricostruisce una trama interiore che è la trama di un dramma familiare sul quale la regista rimane in sospeso, divisa tra l'affetto per la madre e quello per il padre, un'identità iraniana che non è facile da vivere e che non è facile da districare. Buona visione!